Tutti gli anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Alcuni insegnanti di una scuola elementare di Firenze hanno preferito non portare gli scolari in visita a Palazzo Strozzi per ammirare la mostra Bellezza Divina, che include opere tra gli altri di Fontana e Mattis, che ritraevano scene della crocifissione. Gli insegnanti si sono giustificati spiegando che queste immagini potrebbero turbare la sensibilità delle famiglie non cattoliche, visto che il tema della mostra era strettamente religioso. Secondo lei è giusta la decisione degli insegnanti o sarebbe stato meglio portare i bambini a visitare questa mostra? Sarebbe stato giusto portarle a visitare questa mostra anche per i bambini di non religione cristiana, per aumentare la loro conoscenza, la loro cultura. Non ci vedevo niente di offensivo per la loro religione, che poteva essere qualsiasi, dall'islamica, buddista, non so adesso che tipologie facevano parte della classe che ha evitato di andare a questa mostra. Quindi alla fine le dice si tratta di arte, l'arte è per tutti. Sì, esatto, è sempre un bagaglio culturale, non ci vedo niente di offensivo. Al giorno d'occhi si discute del fatto che alcuni bambini non sanno nemmeno da dove arrivano latte e uova, e qualcuno si chiede se forse non sarebbe meglio portarli a conoscere meglio la natura piuttosto che le mostre. Che cosa ne pensa di questo? Che bisognerebbe fare entrambi. Secondo me sarebbe anche giusto dedicare un po' di tempo scolastico anche alla natura. Anche quello è un qualcosa che adesso con la società di oggi è difficile trovare nella normalità, nella quotidianità. Quindi che si dedichino alle istituzioni non lo trovo sbagliato, anzi. Trovare magari un equilibrio tra le due cose. Esatto, sì, un equilibrio. Perché queste nuove generazioni, almeno per quanto mi riguarda, ancora ancora si è riuscito. Adesso è veramente difficile, con l'ingrandirsi delle città, e l'accentrarsi verso le città per una questione lavorativa. Mi sembra corretto che questi bambini vedano anche quello che è la natura, l'agricoltura, gli allevamenti. Penso che sia un bagaglio culturale anche quello. Dipende da che punto di vista guardi la cosa, semplicemente. Se sei religioso, come sono ad esempio i musulmani, in un modo, come per dire, cioè io ho il padre musulmano, praticamente derivo da una famiglia, sono mezzo albanese, per cui posso capire determinate persone come la pensano come punto di vista, diciamo, della cosa. Però, essendo in un paese come l'Italia, dove la religione ha come simbolo anche il Papa, e avendo anche, come posso dirti... È molto radicata, è molto presente in tutti i luoghi pubblici, anche intendi quello. Bravo, quello. Bisogna un attimino, secondo me, capire anche il posto in cui ti trovi, semplicemente. Cioè, se ti trovi in Italia, avendo una religione forte come il cristianesimo, devi semplicemente adeguarti, quello. Quindi era giusto portare i bambini a questa mostra perché dovevano adeguarsi, questo mi sta dicendo? Per quello, sì. Devono adeguarsi al posto in cui si trovano, praticamente. Sì, è giusto portare i bambini alla mostra, perché è giusto così. Se siamo in Italia, devono loro abituarsi alla nostra religione, cioè nel senso il crocifisso, il presepio, Natale... Quindi è giusto anche che i bambini di famiglie straniere possano in un qualche modo relazionarsi con la nostra religione? Certo, certo. Sì, sì. Sicuramente, sì. Altrimenti se ne stanno dove stanno. Qualcuno dice che piuttosto che portare i bambini a vedere le mostre è meglio portarli in mezzo alla natura, a contatto con la natura, perché ormai i piccoli di oggi, i bimbi di oggi, non sanno nemmeno più da dove arrivano latte e uova. Cosa ne pensa? Non lo so. Questa è una domanda un po' difficile, però anche la natura, giustamente, portarle, sì, perché anche devono capire che ci stanno stu latte, stu uova, giusto? Bisogna conoscere comunque la provenienza dei prodotti che abbiamo tutti i giorni sulle nostre tavole. Certo, certo, certo. Quindi per lei è giusto che nelle scuole venga pensato un percorso di questo tipo in modo che i bambini possano conoscere la natura e entrare in contatto proprio materialmente con la natura? Certo, certo. Sicuramente tutto devono conoscere della nostra cultura. Grazie a tutti.